Ciao ragazzi, oggi facciamo di nuovo l'albero di Natale Eccoli qua gli ingredienti Comunque non siamo solo noi due C'è il telecamaraman, che è il nostro padre Che ora verrà a aiutarci a fare l'albero di Natale Comunque lasciate come sempre un bel mi piace Iscrivetevi al canale Raw and Raw Allora, noi abbiamo l'albero di Natale Abbiamo un albero, anche le decorazioni Anche una stella Per mettere un albero, quando abbiamo fatto i pallini E anche ci sono anche le luci Qua c'è l'albero di Natale E qua ci sono le decorazioni di palline Ok, ora cominciamo Iscrivetevi al canale Quando avremo finito il video Metterò un po' più veloce il video perché ci metteremo a tempo quindi metteremo una velocità non massima per 2 o per 4 ok cominciamo cominciamoci parliamoci dopo per 2 Grazie a tutti. 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 Buon Natale. Buon Natale a tutti. Ciao.